Presentato nella splendida cornice di Villa Borghese, la casa del cinema, il Castiglioni Film Festival. Prestigiosi i nomi che vi prenderanno parte. Tre serate a fine luglio. La parola chiave è contemporaneità. Avremo il film I Predatori con ospite Giorgio Montanini, la pellicola premiata a Venezia come migliore sceneggiatura per Pietro Castellitto. Poi avremo Settembre con Fabrizio Bentivoglio, un film che è uscito da poco nelle sale, tra l'altro molto apprezzato. E poi un'altra pellicola del 2019, Lontano lontano, con Giorgio Colangeli ed Agno Fantastichini. Ovviamente sarà con noi il maestro Giorgio Colangeli il 31 di luglio. Se mi avessero detto otto anni fa che l'ottava edizione del Castiglioni Film Festival sarebbe stata presentata a Roma, non ci avrei creduto. In realtà oggi è il coronamento di un percorso che abbiamo iniziato appunto otto anni fa e dalla cifra di quanto cammino abbiamo fatto, il Castiglioni Film Festival è una realtà che si misura anche dallo spessore degli ospiti che presentiamo. Crediamo anche nella promozione della città e del territorio anche attraverso l'arte del cinema. Pensiamo che sia un volano importante che fa conoscere Castiglioni Fiorentino e permette a Castiglioni Fiorentino di conoscere e incontrare tanti personaggi.